Abbiamo a che fare anche con una meteorologia quasi impazzita perché giorni fa mentre qui c'era una bomba d'acqua in costiera amalfitana c'era il sole. Quindi non puoi manco farti un'idea precisa di quale territorio in maniera omogenea è interessato perché molte volte le precipitazioni meteorologiche sono veramente a pelle di leopardo nel senso che mentre qui precipitano 100 millilitri di acqua in un momento a Cava non piove o anno c'era non piove e viceversa. Quindi è veramente difficile mantenere una linea guida precisa e come poi prendere decisioni. Qui fino a qualche ora fa c'era vita, c'era gente che appena ci vedeva si affacciava al balcone, ci salutava, gente che scendeva saliva. Siamo nella zona storica, siamo a ridosso del comune. E stamattina l'evacuazione stabilita da un'ordinanza sindacale per assoluta necessità, visto che l'allerto è a meteo continuo ed è di un colore pericoloso. Mi dispiace dover determinare, essere responsabile dei disagi che vivono tanti bambini, tante donne, tanti anziani, tanti diversamente abili, però è meglio peccare in prudenza che in superficialità. È meglio essere prudenzialmente attenti, ma guai a essere disattenti, superficiali. Queste cose le paghi amaramente. Quello che è successo ieri notte, insomma, come dire, un banalissimo slavinamento, cioè niente di preoccupare, però intanto la briglia che avevamo ripulito in 15 giorni si è riempita di colpo. E fortunatamente che l'abbiamo pulita la briglia, abbiamo messo in sicurezza buona parte della zona incendiata, ma se quella briglia, fortunatamente per noi il tempo è stato soleggiato, insomma, e quindi abbiamo avuto anche un momento buono per pulire, ma se non fosse stata pulita tutto quello che è venuto giù e che è stato trattenuto si sarebbe riversato nel centro storico. Ora, il danno è minimo, abbiamo pulito in meno di 3-4 ore, però c'è da pulire tutti i sottoservizi, perché se non puliamo i sottoservizi e non li puliamo con attenzione si allaga tutto. Io voglio sperare che in questa pazza meteorologia sia, come dire, che non succeda assolutamente nulla, anzi che non piove, in modo tale che siamo tutti più tranquilli. Stamattina già tutta la zona che dovrebbe essere interessata è presidiata. Abbiamo anche organizzato, di concerto con l'assessore ai trasporti, un servizio di navetta che accompagnasse le persone che verranno ospitate alla scuola media Baccelli. Ci sono delle ambulanze che hanno accompagnato persone che non avevano problemi di deambulazione. e già da stamattina una ventina di persone si sono recate presso il centro d'accoglienza. Siamo nell'incredulità, perché vedendo il tempo, vedendo le cose, però giustamente l'allerta arancione deve essere affrontata come è giusto che sia affrontata in questi termini, quindi anche con l'ordinanza di sgombero da parte delle zone della città più critiche. L'evacuazione sta procedendo in maniera tranquilla? Serena e tranquilla, mi sono sentito anche con gli altri organi di polizia, sta tutto procedendo in maniera serena, come è giusto che sia rispetto per affrontare una criticità come quella dell'evento piovoso. Quando si tratta della vita delle persone non c'è nessun barriera politica né partitica, assolutamente vicinanza rispetto a tutti i cittadini che purtroppo oggi soffriranno questo allontanamento forzato da parte delle loro case. Grazie. Grazie.